E le bandiere di guerra che precedono il reparto di formazione, onore alle bandiere di guerra, alla bandiera del reparto su porti tattici del comando truppe al fine, alla bandiera del terzo reggimento artiglieria da montagna, allo spettato del glorioso Piemonte Cavaleria. La bandiera di guerra nell'Oltavo reggimento artiglieria da montagna, allo spettato del reparto su porti tattici del comando truppe al fine, allo spettato del reso reggimento artiglieria da montagna, allo spettato del reparto di formazione, onore alle bandiere di guerra, allo spettato del prezzo reggimento artiglieria da montagna, con una bandiera di guerra, La compagnia dell'ottavo reggimento Olmini, i nostri ragazzi ci muovono, sono a parte del nostro cuore, questi ragazzi che volontariamente indossano il cappello. Ed ecco i con parole della città di Udine con il suo sindaco. Grazie sindaco, grazie città di Udine, grazie regione regione Venezia Giulia, grazie provincia. I convalori della città di Udine, una medaglia d'oro al valore militare, i convalori della regione, una medaglia d'oro al valore civile e ora i convalori delle province, delle città, dei comuni della provincia di Udine che precedono. Vi salutiamo, vi salutiamo con calore perché in realtà è tutta la regione che ci accoglie, ci accordo con una straordinaria manifestazione di affetto. I convalori precedono. la regione che ci accoglie, come un'altra partita, e per la statura pura, per la regione di un'altra partita, missione di un'altra partita dove gli amici, perché in due anni dimostrarono le loro capacità e la loro sordezza furono una garanzia straordinaria di trasformazione di in una situazione di crisi, in un risultato in termini di pace. E qui, sicuramente, eravamo tutti arrivati, a più di essere presentati, sicuramente, per una missione della società. E per la grande cura, guardate, missione di Lini, in questo articolo, dove gli albini, perché in due anni dimostrarono le loro capacità e la loro sindezza, furono una garanzia straordinaria di trasformazione di una situazione di crisi in un risultato in termini di pace.